Ragazzi, è giorno di festa. Il Liger ci aveva azzeccato, perché durante il Pokémon Presence di oggi sono stati annunciati ufficialmente i famigerati remake della quarta generazione, Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, che arriveranno a fine 2021 sul Nintendo Switch. I due nuovi titoli adotteranno una veste grafica inedita per la serie, infatti lo skill dei personaggi sarà un particolare cibi più marcato rispetto a X e Y, mentre l'intera mappa della regione di Sinnoh è stata riprodotta fedelmente, adattandola alla vivacità cromatica di Nintendo Switch. Per quanto riguarda la meccanica delle lotte, notiamo come rimane invariata dalla formula tradizionale, mantenendo però la semplicità e l'intuitività dei titoli più recenti della serie. Inoltre sappiamo anche che i remake di quarta generazione saranno sviluppati da Ilka Inc., studio giapponese con alle spalle giochi del calibro di Dragon Quest XI, Nier Automata e Code Vein, e non da Game Freak, che comunque ha supervisionato il progetto con la direzione affilata a Junichi Masuda. Inoltre oggi è accaduto l'impossibile. The Pokemon Company ha annunciato anche Leggende Pokemon Arceus, un vero e proprio gioco Pokemon open world ambientato nella Sinnoh del passato. Il titolo, un'uscita sempre su Switch a inizio 2022 e sviluppatore Game Freak, si è infatti mostrato in un edito spettacolare trailer d'annuncio. Leggende Pokemon Arceus è una nuovissima avventura, mai vista prima in Pokemon, un vero e proprio action RPG open world ambientato nel passato di Sinnoh, che tuttavia rende comunque onore alle classiche meccaniche di gioco che caratterizzano Pokemon. La missione che un misterioso professore affiderà al giocatore sarà quella di creare il primo, vero, storico Pokédex di Sinnoh, affidandogli uno starter fra Rowlet, Cyndaquil e Oshawott, che il professore ha incontrato nelle sue esplorazioni intorno al mondo. Questa storia si svolge appunto in un'era lontana, quando ancora nessuno immaginava che si potesse diventare allenatore di Pokemon o che potesse esistere una lega Pokemon. Come è intuibile dal titolo, inoltre, la trama del gioco sarà strettamente collegata al Pokemon misterioso Arceus, creatore dell'universo. Game Freak ha quindi fatto un regalo inaspettato a tutti gli allenatori del mondo. Per maggiori informazioni vi ricordiamo di seguirci su tutti i nostri social e di non perdervi neanche un nostro video. Lasciate un like, condividetelo a tutti i vostri amici e iscrivetevi se lo avete ancora già fatto. Per questo video è tutto, vi ringrazio per essere passati, ciao allenatori!